Però ora non possiamo non parlare con il nostro ospite che è anche molto ricco di approfondimenti perché i temi di grande attualità, diciamo in gran parte comunque li ha affrontati anche lui l'assessore Maurizio Marrone, assessore regionale, ha molte deleghe, rapporti con il Consiglio regionale delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, affari legali, emigrazione, cooperazione internazionale e posto olimpico insomma ho cercato di dire di tutti, benvenuto assessore Buongiorno a tutti, grazie Allora, molti temi, la prima cosa che le chiedo però abbiamo sentito molti suoi colleghi anche della Giunta lei nell'ambito dell'emergenza Covid di cosa si è occupato nello specifico? Beh in particolare sotto il profilo della cooperazione internazionale anche dei rapporti appunto di natura internazionale che afferiscono alla pandemia, alle reazioni alla pandemia abbiamo coordinato e favorito l'aiuto alla missione umanitaria che è venuta a sostenerci da un punto di vista sanitario dello Stato di Israele che in particolare si è impegnata nel Covid Hospital di Verduno portando altissime professionalità sanitarie al servizio del Piemonte così come anche in questa fase di difficoltà di approvvigionamento di vaccini per riuscire a velocizzare la campagna di immunizzazione del nostro territorio regionale come sapete il Presidente Cirio ha deciso di dare mandato a SCR alla società di committenza regionale per un'indagine di mercato sulla panoramica di tutti i vaccini disponibili sul mercato internazionale proprio per cercare, ed è qui che me ne occupo anche come affari legali con il sistema camerale piemontese delle Camere di Commercio di attivare un percorso di approvvigionamento da parte privata delle aziende che vogliano velocizzare il processo di immunizzazione a proprie spese facendo in modo così di vaccinare il proprio personale, i propri dipendenti e collaboratori che per ragioni di mansioni tecniche o magari di export necessitano di maggiore celerità per poter avere più libertà di movimento E poi tra i vari temi c'è anche quello che era emerso nei giorni scorsi ma l'abbiamo citato anche nella preview del nostro telegiornale cioè c'è stata un po' quella situazione indubbiamente spiacevole per tutti che è quella dell'avviso all'ultimo momento degli impianti da sci che dovevano restare chiusi una cosa che credo che abbia creato anche qualche scorsone al governo che si era appena insediato perché non è piaciuto diciamo indubbiamente a tutto il nord Italia che era il più coinvolto sul discorso degli impianti civistici c'erano persone che si erano preparate, organizzate, avevano richiamati i lavoratori avevano battuto già le piste, avevano fatto tutto il lavorone cercando ovviamente di seguire tutte le regole previste e poi all'ultimo momento gli si è detto no vabbè non se ne fa nulla e il presidente Draghi ha detto più volte che adesso si cambierà ha fatto capire che verrà cambiato sistema insomma probabilmente non è il prossimo anno e possiamo aspettarci qualcosa di nuovo però la regione Piemonti ha detto qualche cosa di più insomma non è stata soltanto una protesta un po' di indignazione c'è stata anche una scelta precisa e anche legale se non sbaglio Sì confermo perché l'ordinanza del ministro della salute Speranza che è un ministro di continuità rispetto al precedente governo Contebis e purtroppo sta mantenendo continuità anche in uno stile sgradevole di diktat non preparati e non comunicati preventivamente al territorio è sostanzialmente arrivata come una doccia gelata a poche ore dalla ripartenza di tutto il comparto neve quindi tutto il turismo montano che cercava di recuperare almeno la parte finale della stagione e quindi tante spese parliamo di parecchi parecchi milioni di euro sono andate sprecate perché? perché sostanzialmente sono stati investiti in atti di preparazione di questa ripartenza come le spese di battitura delle piste del carburante dei mezzi di battitura, i contratti già attivati per il personale stagionale la ristorazione che ha fatto scorta così come le prenotazioni chiaramente poi andate a deserte degli hotel che hanno creato un danno ingente a tutto il comparto neve del Piemonte e poteva essere evitato perché i dati sanitari su cui il ministro Speranza ha assunto poi questa decisione erano già in possesso del governo da giorni e giorni, quasi da una settimana perché erano stati comunicati già il martedì e invece la notizia è arrivata la domenica pomeriggio sera e quindi abbiamo ritenuto insieme ad Arpiet che è la società sapete che è l'associazione che riunisce le società che gestiscono gli impianti di risalita abbiamo deciso di cominciare la stima dei danni un passo che è necessario a preparare poi un'azione di risarcimento danni da danno extracontrattuale proprio da far valere sui tavoli romani come una richiesta di indennizzo, di risarcimento proprio perché la sfiducia verso questo governo c'è anche rispetto alla promessa di ristori che viene ormai agitata da parecchi giorni ma senza essere ancora mantenuta in concreto anche su questo la regione si sta distinguendo positivamente mettendo mano direttamente alle proprie casse anticipando diversi milioni la cifra complessiva sarà 20 milioni anticipando quindi i ristori nazionali che al momento al di là delle promesse vaghe legate al recovery plan non stiamo vedendo e sul territorio non è ancora arrivato nulla adesso le faccio una domanda perché riguarda sicuramente il nostro Piemonte ma è andato agli onori della cronaca nazionale facciamo un passo indietro nella scorsa estate a metà agosto il ministro Speranza che è ancora ministro però insomma nel precedente governo ha fatto quello che alcuni giornali hanno definito un po' un blitz ha cambiato le linee guida per l'utilizzo della pillola RV486 che è la pillola abortiva non è la pillola del giorno dopo è la pillola abortiva quindi che è il comitetto aborto farmacologico e con le nuove linee guida si prevede o si prevederebbe insomma un aumento un'estensione della possibilità di utilizzo in termini di settimane di gravidanza ma anche il fatto che possa essere data alle donne anche non in una situazione necessariamente spedaliera prima si prevedeva comunque una situazione spedaliera o anche addirittura un ricovero e invece le nuove linee guida prevederebbero anche in una situazione differente non ospedaliera come ad esempio in un consultorio o in altre strutture lei si è diciamo subito dimostrato abbastanza ostile a queste nuove linee guida ha espresso subito la sua posizione ha coinvolto anche l'ufficio legale della regione Piemonte fino ad arrivare poi alla ratifica solo in parte di queste linee guida per il Piemonte cioè in Piemonte a differenza di quello che prevedono le linee guida nazionali la pillola RU486 può essere utilizzata soltanto in ospedale e non in altre strutture come ad esempio i consultori e ho raccontato bene la vicenda? è una sintesi assolutamente precisa proprio perché sin dalla prima lettura di queste linee guida agostane quindi già un po' atipiche in questo ci siamo accorti che il testo della legge che regola a livello nazionale il tema dell'interruzione volontaria di gravidanza cioè la 194 venivano violate in modo piuttosto palese soprattutto nella parte in cui si chiarisce che il consultorio è il luogo dell'approfondimento della scelta della donna e quindi anche il luogo in cui si offre sostegno psicologico e le istituzioni hanno il dovere anche di informare di suggerire tutte le possibili misure di assistenza, di sostegno di natura finanziaria piuttosto che anche sanitaria per aiutarla nell'ipotesi di proseguire la gravidanza che invece il luogo dell'esecuzione della vera interruzione di gravidanza deve essere l'ospedale anche per ragioni di tutela della sicurezza della donna che operi questa scelta infatti dopo questo primo approfondimento di natura tecnico-giuridica portato avanti con una riunione con l'avvocatura regionale che ha confermato i nostri dubbi e le nostre perplessità è emerso anche un confronto con la parte tecnico-sanitaria della direzione sanità della regione Piemonte che ha confermato l'assoluta inidoneità tecnica dei consultori a operare direttamente l'interruzione di gravidanza per mancanza di formazione del personale per mancanza di ecografi, di strumentazione soprattutto di collegamento logistico strutturale con gli ospedali in particolare nel caso di complicazioni che possono avvenire in una percentuale comunque considerevole anche in caso di aborto farmacologico e quindi in tutta questa parte di somministrazione del farmaco abortivo direttamente nei consultori la regione Piemonte e io in particolare anche con l'assessore Carbi con la direzione sanità abbiamo preso carta e penna abbiamo scritto al ministro Speranza spiegandogli tutti questi motivi per cui non potevamo e non volevamo dare seguito a queste linee di indirizzo in regione Piemonte infatti vi ha risposto Speranza poi? il ministro Speranza non ci ha risposto perfetto c'è stata una comunicazione non solo politica ma anche formale, istituzionale addirittura via PEC sono passati ormai mesi e non è giunta risposta per cui sostanzialmente quella parte che è quella maggioritaria delle linee di indirizzo anche tra l'altro la parte sull'estensione del periodo di somministrazione perché se quella parte dal punto di vista giuridica della legge 194 non poneva contrarietà il nostro settore tecnico soprattutto dedicato all'aspetto farmacologico della direzione sanità ha evidenziato che il secondo farmaco di somministrazione necessaria in caso di periodo in là insomma con la gravidanza già nelle fasi successive assolutamente non è nemmeno reperibile a livello di copertura di servizio sanitario nazionale in Italia ed è quindi reperibile solo con costi assolutamente ingenti sul mercato statunitense e quindi è in realtà una circolare non solo non conforme alla legge nazionale bensì quasi tecnicamente inattuabile e infatti anche se non siamo troppo sorpresi il ministero della sanità del governo prima Conte poi Draghi non ci ha risposto e non ha replicato al nostro chiarimento sulla applicabilità di gran parte delle loro minori di rischio ho i tempi devo chiudere questa interessante intervista peraltro ricordo che adesso c'è stato anche poi un bando per le associazioni invece che si occupano di difesa della vita per poter offrire il loro supporto servizio di sostegno a chi ovviamente vuole non è che ovviamente non è obbligatorio ma una presenza questo c'è stato un bando della regione Piemonte che prevede proprio l'apertura anche di spazi fisici all'interno degli ospedali per dare un sostegno a mamme che magari o future mamme che possono essere preoccupate per il loro futuro per capire quali sono gli strumenti che possono aiutarle giusto? Sì, sono bandi delle ASL Piemonte per aggiornare questi elenchi di queste associazioni di tutela materno-infantile per assistere le donne e le ragazze con gravidanze difficili Grazie grazie assessore buon lavoro a lei ci risentiremo perché poi vogliamo sapere come è andata a finire sia la questione anche la questione legale sugli sci mi raccomando che è un tema che stiamo seguendo con grande attenzione grazie per ora buon lavoro a lei e ai suoi collaboratori grazie arrivederci